Benvenuto nell'allenamento veloce, i video che ti insegnano WorldVentures in un batter d'occhio. Oggi impariamo come fare la lista. La regola numero uno è niente pregiudizi. Non stai più nella pelle per condividere WorldVentures, certo, ma pensa se il tuo sponsor non ti avesse invitato per via di un pregiudizio. Immagina se si fosse detto è troppo giovane o è troppo vecchio, ha troppi soldi o non abbastanza, è troppo impegnato, ha già un buon lavoro, non viaggia, non credo gli piaccia questo sistema. Il tuo compito in WorldVentures non è cercare di convincere le persone di iscriversi, ma semplicemente mostrare la presentazione a tutti quanti e lasciare che siano loro a decidere se iscriversi o meno. Scrivi i nomi e i numeri su un foglio di carta, proprio così, non sul cellulare, su un foglio di carta. E sai perché? Per prima cosa serve per poter fisicamente monitorare i tuoi progressi in WorldVentures, scrivendo sul foglio chi ha invitato e a chi hai presentato. In secondo luogo ti sentirai più sicuro. Il successo di questa attività si basa sulla perseveranza. Gli unici blocchi sono mentali, si fallisce solo rinunciando. Di solito le persone rinunciano quando non vedono risultati, ma se hai una lista nomi gigante ti sentirai sempre motivato e pronto all'azione. Così quando ricevi qualche no lungo il cammino mostra la lista nomi per dimostrare quanto sei determinato ad avere successo. Tutte le attività hanno bisogno di clienti. La lista nomi è un fattore importantissimo per il tuo successo. Presto avrai una lista di centinaia di nomi, ma per cominciare affidati al mercato caldo, come la tua famiglia e i tuoi amici più cari. Ti conoscono, ti vogliono bene e si fidano di te. Se nel bel mezzo di un posto lontano da tutto ti ritrovassi con tutte e quattro le ruote a terra e solo l'1% di batteria sul cellulare, chi chiameresti per aiutarti? Quali sono le 5 o 10 persone che ti vengono in mente per prime? Scrivile su un foglio di carta ed invitali al più presto. Più avanti nell'attività, quando sarai meno impegnato, puoi dedicarti al mercato tiepido. Pensa a tre tipi di persone. I motivati, le calamite e gli insoddisfatti. Se ti occorre, ferma il video quando necessario e comincia a scrivere mentre li analizziamo uno per uno. Le prime sono persone competitive. Conosci sportivi ad alto livello? Sono di solito persone in grado di mantenere concentrazione e disciplina. Inoltre capiscono che gli obiettivi si raggiungono con impegno a lungo termine. Conosci imprenditori? Sanno già che cos'è l'imprenditoria e che i sì arrivano sempre dopo i no. Molti di loro sono diventati schiavi della loro azienda e non hanno più tempo per nient'altro. Spesso sono loro i più aperti ad altre opportunità che restituiscano un tenore di vita migliore. Conosci venditori che lavorano su commissione? Devono vendere per guadagnare? Conosci persone che vogliono sempre vincere? Persone che hanno due lavori e non perdono mai un'opportunità? Scrivi ed invitali subito. Il secondo gruppo sono le calamite. Chi fra i tuoi amici è il primo o la prima a lanciarsi su una pista da ballo portandosi appresso altri amici? Conosci persone coinvolte in attività sociali? Che partecipano ad assemblee o che rivestono cariche importanti? Conosci persone che sorridono sempre e si veste in modo appariscente? Sono persone che amano esprimersi e divertirsi. Chiamali subito. L'ultima categoria sono gli insoddisfatti, persone che non sono contente di quello che la vita ha riservato loro. Non sono pigri, sono semplicemente le persone che sono stanche del loro lavoro. Magari hanno perso il lavoro, odiano la macchina che si possono permettere di guidare e gli si spezza il cuore a pensare di stare lontano dalla propria famiglia. Ti viene in mente qualcuno? Non avere pregiudizi. La nostra membership potrebbe essere proprio quello che stanno cercando. A questo punto dovreste avere una lista di almeno 100 nomi, ma continua ad aggiungere altri nomi e comincia subito ad invitare.